Siamo in cui faccio il giancio, ora 121.18 121.18 Per un decollo in formazione Tutti, usciamo per un decollo, sì O più o meno, la componente attraverso è uguale Faccio la biglia Forte e chiaro? Sì, aspettate l'ultima battuta Proviamo ad aspettare l'ultima battuta del vento allineamento e magari decidiamo lì Sì 124.38 Davanti, biga Sì, su e a sinistra, ricongiungi di spalle, biga, giusto? Sì, su e a dentro Copiato, su e a destra e poi entri da Codron, confermi Non devo la sinistra Copiato Non decollo in formazione Intanto andiamo, 146 146 2 3 4 5 Mi fermo qui Cominciamo i controlli Il tetto c'è spina Lo facciamo dopo Maniglia in serie Cinghia state bloccate Comandi liberi Aerofreno su Platt decoff Rimpare il decollo Prima parcheggio è tolto GPT su off Solettore su tip Anti-skid su off Orizzonto Giro Bus La G269 In prua 269 la display Dopo il decollo Andiamo su e a destra Biach Codronato in serie Ribas 3 Sì a posto Copiato 6 a posto Cidiamo tutto il tetto Biccio Togliamo la spina Pronti per lo slam Motore Ora Bianchi e colorati Via Bianchi e colorati Ora Idol Sei a posto Copiato 6 a posto Piga siamo pronti Anche noi quando volete Hai copiato Sto mando informazione Copiato 6 a 0 Pito Controlliamo la spina Taxi light Ora Motore 9 a 7 9 a 9 Per la prima sezione Pronti Con i freni Via Sotto Avogato 100 10 Andiamo su Fermi Così Freni Carrello Ora Flaps Ora 40 Messi per 1 10 Allungato Sette Allungato 80 Riduco Posto 7 a posto Vado su piano a testa 200 10 secondi 6 Fuori Se dentro Sei a posto Copiato a posto No Non si sono visti No 1 Riduco Puntando Inverto Ora Fermi così Lo riprendo piano No No Sette Su Scaricato a destra Stringo E lo rilascio Fermi così 17 7 a posto Via Stringo Un filo di motore Caricato a sinistra Bumi bianchi Via 3 40 Con 9 3 Andiamo Su Tiro Tiro Di più Colorati Via Bianchi Ora In piedi Rilascio Riduco Via Colorati Ora 4 6 135 Longo La destra 1 Riduco Continuo Su E a destra Stringo E lo rilascio Fermi così Rombo Via 1 Riprendo Giù Piano E a sinistra Fumi bianchi Via Abbiamo 3 E 30 Con le 9 2 Andiamo Su Monti Per Apertura Via Centrati No Rilascio 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 30 4 5 150 400 No Via Fumi Andiamo su Buono Vieni Con i freni Vieni Vado avanti Via Fuori Tutti Via Messi bene 80 Continuo Su Piano A destra 1 Dentro 6 Fuori 60 Fuori Motore Normale Ora Ci riscondi Sei dentro 8 Sei a posto Vado a posto Buona 10 Un filo di motore Cominciamo A caricare E andiamo su E a sinistra Ora Rilascio Riduco 2 6 2 40 50 No Lo riprendo piano Riduco Continuo su 2 A sinistra Stringo E lo rilascio Fermi così A posto dietro 7 Indietro Via Giù A sinistra Buona Buona 10 Lo riprendo Giù piano E a destra Un filo di motore Colorati Via 20 Con 9 2 Esterni Via Rombo Via Tonno Via Colorati O su All'in In piedi Messi bene Che con i freni Fai ancora avanti Via Messi bene Settiamo Settiamo qui laudine 7 8 Avanti Via 9 5 70 1 Dentro 6 Fuori 60 5 5 6 Dentro 6 A posto 5 A posto Ridugo Continuo su e a sinistra Giù Giù e a destra 6 6 Motore 95 6 1 2 A sinistra Giù e a destra Bumi bianchi Via Andiamo Su No Sonti Per l'apertura Via Sping avanti Ora Via dentro Ora Sonti con i freni Freni fuori avanti Via Sonti con i freni Sonti con i freni Sontando inverto Ora Stringo Vieni 1 1 Rilascio Colorati Via Via Colorati Ora Stringo Punto Bello 6 Un filo più basso 6 Giù Scaricato a destra 80 Qui Stringo Giù Scaricato a sinistra 20 Messo bene 10 1 dentro 6 Fuori 100 Semplicità 100 5 secondi Vieni giù a destra Quando vuoi 1 A destra Sei dentro Si apposta 1 Costruita bene Energia 1 Buona 10 5 Lo riprendo Giù piano E a sinistra 4 5 Bianchi Via Andiamo 3 25 9 3 35 A posto Via 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 35 Andiamo su 35 Un filo più veloce 5 Piedi Rilascio Riduco 35 130 All'angolo Un filino a destra Rombo Via Riduco Continuo su E a sinistra Stringo E lo rilascio Fermi così A posto dietro Giaccigno Via Un filo rallentato Un filo rallentato da rovescio 10 Bianchi dietro Via Un filo di motore Cominciamo A caricare E andiamo su E a destra Ora Rilascio Riduco 2 5 2 40 No E prendo piano Io Bianchi dietro Ora Fermi Così 4 5 Avanti Via A rombo Via Buona Giù a sinistra Molto bella 10 Giù a sinistra Lo riprendo Giù piano E a destra Trapezio Via Linea di fronte Via Colorati Via 3 20 Con 9 2 Andiamo Su A rombo Via Bianchi Ora Via Colorati Ora In piedi Rilascio Riduco All'apertura Via Stengo Sontati No Sto montando Inverto Ora Sprengo Vieni 6 6 Lo rilascio I e bianchi Ora Perfetto Con i freni Vada avanti Via Giù a sinistra 10 Alto tutto un filo C'hanno chiamato un Tullo per il solo 10 50 30 Vado su a destra 1 dentro 6 fuori 6 dentro 10 Secondi 10 Buona 10 10 Prima da posto Prima da posto Sostengo Giù Scaricato A sinistra Peretti Così Sontati Via 3 20 Con 9 2 Pronti Per L'apertura Via Pronti Per l'apertura Via Corriere davanti Ora Via dietro Ora Molto bello L'apertura Via 1 dentro Su fuori 7 a posto 1 40 Buon scaricato A sinistra 40 Sei dentro 50 10 Secondi 50 A destra A posto Dietro Chiudevo Caro 11 10 Copiato A posto Passiamo Al passo Venga Lo riprendo Piano E a sinistra Trapezio Via Linea di fronte Via Colorati Via 3 20 Con 9 1 Interni Via Esterni Via Via Colorati 2 a destra Ritucco Buoni Stringo E lo rilascio Fermi così a posto dietro 7 8 avanti Via Vieni fuori Via Piano 8 0 0 2 a posto 20 secondi Ora Verrete a terra da iniziale No Riprendo Ringo Centrati No Giù Scaricato a sinistra Fermi così 7 Tutto a posto Via 6 9 Via 150 Pronti con il carrello Carrello giù Ora 145 Flaps Tutti giù Ora Giù A sinistra 40 Secondi Ora Giù Piano a destra Spumi bianchi Via Motore Confermi che è atterrata per 2-7 Speriamo 2-7 Copiati 2-7 Ancora motore Colorati Via Via Bianchi Ora Ancora un filo di motore Andiamo su piano E a sinistra Ora Rilascio Riduco Lo riprendo Su piano E a destra Fermi Così Arombo Via Via colorati Ora Tutti a posto Motore Riferine Dentro 125 Non toccare L'urlo su Ora 125 Flaps Tutti su Ora 1-5 a posto Via 10 a posto 1 3-6 con la sinistra La sinistra Avertura A destra Alla sinistra Avertura A destra 2-3 4-3 9-10 Spumi bianchi Via Giù A destra Se fuori Quando vuoi 6 Alla sinistra Via No Riprendo Giù piano E a sinistra Diretti così Abbiamo 250 noti Con l'8-8 L'1 Apre a destra Ora Fum sottovento Gida al primo momento 1-7-0-14 1 Fumì 9 9 4 Chiudi un filo 4 Friga Frecce tricolori Basso Controllato Finito Per 10 2-7 La torre Vi autorizza L'atterraggio Il vento 170-14 Autorizzata L'atterraggio 2-7 Frecce tricolori Vi controlliamo Di avere tre verdi Full flap Anti-skizzo Normal Atterro al centro Solo lei Sinistra Riuscite liberare Al centro 10 Aposto Qui è cercato di velocizzare Siamo già Siamo 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 Dopo Capito Viga Grazie Ci vediamo Dopo Direttore Tilda Chiude Dopo Grazie Viga A più tardi Grazie 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 Grazie